Jurassic World Dominion, terzo capitolo della saga cinematografica di Jurassic World e sesto in generale del franchise di Jurassic Park. Sono rimasto molto deluso nello scoprire che Jurassic World Dominion non parlasse di dinosauri e di BDSM. No, questa la tagliamo. Wab lab 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 e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita. Sono con voi a parlare per la prima volta di questo franchise di Jurassic Park, di Jurassic World, nonostante io sia stato un grandissimo amante del primo film di Jurassic Park che considero tuttora inarrivabile rispetto ai suoi sequel. Ma cosa posso dire io di questo ultimo film che è già stato demolito da youtuber influenti e che quindi non dà molta speranza di replica su questo argomento? Io l'ho apprezzato dove loro non lo hanno apprezzato. Mi ha intrattenuto, mentirei se dicessi che un qualunque film della saga di Jurassic Park, escluso il primo film di Steven Spielberg, mi abbia comunque intrattenuto più di questo. Cioè io in generale non amo nessun film del franchise ad eccezione del primo che ho adorato con tutto me stesso. Quindi fondamentalmente non è che mi aspettassi molto nemmeno da questo. Quindi di cosa posso parlarvi che non è già stato detto da altri youtuber in precedenza? Vi parlerò più o meno di quello che c'è nel film dei dinosauri presenti nel film e ci terrei appunto a fare qualche precisazione che magari è stata spiegata male o non è stata spiegata affatto o è stata appunto sviata in altri video in cui hanno recensito questo film. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ve frega di condividere il video con tutte le persone che amano i dinosauri o che sono dinosauri e di commentare qui sotto con quello che mi è apparso di questo film, di questo video. Scrivetemi qual è il vostro dinosauro preferito. Perché no? Però non siate banali eh. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch dove faremo una diretta con alcuni ospiti in cui cercheremo un po' di esplorare i vari dinosauri di tutta la saga di Jurassic Park e vediamo se i nostri ospiti, ma anche voi della chat, ve li ricordate e azzeccate il nome. Jurassic World Dominion è ambientato ben quattro anni dopo dal precedente Jurassic World da dove nel finale viene mostrato come una bambina che scopre di essere una bambina clonata e di conseguenza di non essere originale, di non avere dei genitori, non lo so, comunque può essere stato un trauma. Scopre di essere una bambina clonata e quindi si identifica molto nei dinosauri clonati anch'essi che stavano rischiando di morire sull'isola, decide di liberare questi dinosauri sulla terraferma, decide di liberare questi dinosauri nel mondo. Quindi quello che ci si aspettava da questo film e dal titolo medesimo era appunto una sorta di Jurassic Park ma mondiale, globale, vedere la gente, i nostri protagonisti, che fuggivano dagli dinosauri non più in un parco a tema ma laddove il parco a tema era il pianeta Terra. Questo più o meno era quello che tutti si aspettavano. Molti sono stati delusi dal fatto che oltre a una regia molto prolissa che ha introdotto delle trame secondarie di cui non fregava nulla nessuno che hanno allungato tantissimo il brodo, la gente non ha apprezzato che questo film appunto è stato tutt'altro. è stato per il primo tempo una spy stories appunto e per il secondo tempo comunque è stata di nuovo relegata a un'oasi naturale dove le persone fuggivano dai dinosauri. Devo dire che la seconda parte a me non mi ha neanche dato troppo fastidio perché ci sta che si vada un po' a riprendere il tema principale, specie se ci sono i protagonisti del cast storico e vuoi seguire quest'onda che ormai è inarrestabile di reboot, di sequel, di film degli anni 80, 90 che sono diventati dei cult e che cavalcano appunto la nostalgia perché questo hanno fatto, non hanno fatto nulla di diverso da Spider-Man No Way Home, da che cazzo ne so, la nuova saga di Guerre Stellari piuttosto che, piuttosto che. Quindi fondamentalmente ci può anche stare. Diciamo che la prima parte della spy movie poteva essere interessante se questo film fosse stato una mini serie tv, se questo film fosse stato un libro, ma dato che questo film è un film, lo stilema classico di Jurassic Park va totalmente a mignote e è un peccato perché anche nel primo storico film di Jurassic Park c'era questa sottotrama di persone che appunto tramavano nell'ombra e volevano fare dello spionaggio industriale, la famosissima bomboletta di schiuma da barba col doppio fondo in cui si potevano nascondere degli embrioni di dinosauri per fare concorrenza a John Hammond. Ecco, un po' viene ripreso questo tema dal primo film, ma non con molta sapienza. Lo riprendono male, lo citano quasi per fare del baiting, in realtà non è citato solo appunto dalla bomboletta spray e... e anche la struttura narrativa di come lo citano è totalmente sbagliata. Questa storia di spionaggio, diciamo, questa storia che ha causato fondamentalmente nel primo film lo spegnimento delle recinzioni del parco, era anche fondamentalmente un pretesto narrativo per fare in modo che i dinosauri si liberassero dai loro recinti. Ecco, era comunque una cosa interessante, ma si fermava lì, non è mai stata sviluppata, Spielberg non l'ha mai voluta sviluppare. Qua invece la espandono e va benissimo, ma l'hanno espansa proprio male, cioè ce l'hanno spiegata tutta. Sarebbe stato molto più bello se fosse rimasto una seconda trama in sottofondo esattamente come lo è stata nello storico film. Lì sì che avrei apprezzato, diciamo, questo surplus oltre ai dinosauri, perché avrei visto i dinosauri e ci sarebbe stata questa sottotrama vagamente accennata che mi avrebbe ricordato appunto la sottotrama del primo film. Niente di più, niente di meno. Qua invece viene sviluppata totalmente nel primo tempo, proprio a discapito anche dei dinosauri, che tra l'altro sono pochissimi nel mondo. Perché? Perché? Perché in questi quattro anni, nonostante siano stati... siano andati in giro allo stato brado e per qualche ragione hanno anche attraversato il continente americano, non ha senso ovviamente che lo abbiano fatto, tranne quelli in volo, tranne quelli in acqua. I dinosauri terrestri non ha senso che si siano sviluppati altrove, se non appunto come hanno fatto vedere successivamente nella pellicola, perché sono stati opera di bracconaggio e opera di, diciamo, compravendita di frodo da parte appunto dei bracconieri, quindi lì ha senso che siano stati portati anche nel vecchio continente. Però, ecco, è tutto molto campato in aria. Diciamo che proprio in questi quattro anni non sono stati i dinosauri a dominare la Terra, appunto questo dominion, ma sono stati gli esseri umani che come sempre sono i veri cattivi e hanno fatto vedere quanto sono prepotenti sugli animali. E quindi tutti questi dinosauri in realtà sono soprattutto quelli carnivori, sono stati messi in cattività, usati come armi, eccetera, eccetera. E noi vediamo di nuovo questa cosa. Ci sta, ma l'abbiamo già vista, rivista, rivista. È stato un po' il tema del film precedente. È stato anche un po' il tema del primo Jurassic World, dove appunto cercavano di addestrare i raptor. Quindi, chi se ne fo... Cioè, fatecelo vedere per 20 minuti, non per un film intero. Ovviamente questo film va visto con il cervello spento e si devono apprezzare i dinosauri, che comunque non hanno una grossa personalità. Cosa stai dicendo? I dinosauri hanno una personalità? Nel senso che nel film di Spielberg, perché è quello da prendere come punto di riferimento, ovviamente non gli altri film, forse un pochino lo spinosauro del terzo, comunque i dinosauri sono pochi, ma sono presentati molto bene. Si percepisce anche un po' la paura, il timore di queste bestie enormi con dei denti grossi come il mio vanbraccio. Qua no, qua vediamo davvero un elenco del telefono, di dinosauri, una miriade di dinosauri, che però restano sullo sfondo. Non sono davvero i protagonisti. E questa cosa si sente molto, perché quando ti rendi conto che ti piacerebbe molto di più vedere un documentario in bad CGI del 2000 piuttosto che questo film, allora ti rendi conto che in realtà il film non è interessante, che in realtà lo stai guardando perché vuoi vedere dei dinosauri, ma fondamentalmente il film non ti acchiappa. Jurassic Park invece dovrebbe essere entrambe le cose. Altrimenti davvero mi guardo un documentario, mi leggo un'enciclopedia sui dinosauri. Parlando appunto dei dinosauri presenti nel film, a quelli leggermente più accennati rispetto agli altri, vorrei fare una precisazione soprattutto sugli errori fatti magari da altri youtuber, perché non era quello il loro focus e quindi non si sono concentrati molto su quali dinosauri. So che è una stupidata da nerd, però ci tengo un po' a fare un po' di chiarezza. Nella scena iniziale, nella scena di apertura in cui il personaggio di Bryce dalla Saurard irrompe in questo strano allevamento illegale di dinosauri, la specie che cercano di salvare non è il triceratopo, non è il triceratops, ma è bensì il nasuto ceratopo. Ovviamente fa sempre parte della famiglia di questi ceratopi, appunto dove c'è ceratopo come desinenza del nome, si intende tutti quei dinosauri che hanno questa sorta di corona, di questa cresta attorno alla testa che gli fa da scudo. Ma il triceratopo, ben più famoso che abbiamo visto nel primo film, ha il becco più affusolato e ha una criniera, chiamiamola così, di ossa molto più marcata con tanti aculei ossei che fanno il contorno. Magari vi metto qua la foto, quindi che cazzo ve lo sto a spiegare. Mentre il nasuto ceratopo ha appunto una protuberanza nasale molto più accentuata, ha il naso più grosso fondamentalmente. È una differenza minima e capisco che ci possa essere un errore nel distinguere i due dinosauri, ma ci tenevo a dirlo proprio per far vedere che comunque hanno cercato di variegare un pochino i dinosauri in questo film e che non è sempre il triceratopo il protagonista. Il nasuto ceratopo è uno dei tantissimi ceratopi presenti nell'universo faunistico dei dinosauri. Magari poi nella live vi dimostrerò perché sono il mio tipo di dinosauro preferito, quindi ho imparato un po' le differenze. Se siete vagamente esperti di dinosauri, ovviamente in senso amatoriale, ma se siete paleontologi a maggior ragione, potreste pensare di primo acchito quando Bryce Dallas Sauer apre la gabbia e vede tutti questi cuccioli di nasuto ceratopi che siano invece dei protoceratopi, che è una versione molto piccola appunto di questa famiglia. In realtà no, perché appunto il protoceratopo che poi si vede a metà del film resta piccolo anche in età adulta e non sviluppa nessun tipo di corno. Invece il nasuto ceratopo e presumo anche il triceratops hanno appunto questo accenno di corna già in età infantile, di conseguenza sono tutti, tutti nasuto ceratopi e un allevamento di questa specie in particolare. Un'altra cosa che si vede a metà del film quando appunto i bracconieri liberano questa sorta di velociraptor addestrati con il comando del laser per aggredire la vittima finché non finiscono il lavoro sono gli atrociraptor. Gli atrociraptor ovviamente sono dei parenti del velociraptor sono un dinosauro realmente esistente. Se voi digitate atrociraptor su internet potete trovare un po' tutta la loro storia. Ovviamente tutte queste cose che vi sto dicendo tutte queste specie che vi sto dicendo ve le metto anche qua sotto in descrizione eventualmente quindi aprite sempre la descrizione. Ecco questo ci tenevo a dirlo per esempio nel video di Victor Laszlo non si chiedeva se questa specie esistesse perché aveva un nome davvero atroce per l'appunto esiste esiste ma non vi stupite perché i nomi di dinosauri sono davvero strani semplicemente chi scopre il fossile dà il nome al dinosauro. Da fan di Ghostbusters vi devo dire che hanno scoperto un dinosauro molto simile al mastino infernale Zul di Ghostbusters e lo hanno chiamato Zul quindi non vi stupite se ci sono dei nomi molto strani sui dinosauri i nomi più strani per noi come adesso ne dico uno sono di solito sono dinosauri trovati da persone in Asia e che quindi hanno dei nomi molto difficili da pronunciare per noi come per esempio il Quetzalcoatlus che è quella quella specie di pterosauro pteranodonte enorme che sembra in realtà proprio un uccello enorme grande come l'aereo quello che lo distrugge fondamentalmente ecco ha questo nome complicatissimo però ecco è questa variante appunto di pteranosauro ovviamente rivediamo il T-Rex che tra l'altro dovrebbe campare attorno ai 18 anni quindi è ben oltre la sua vita naturale ma vabbè ci sta hai vissuto in cattività però è il T-Rex di Jurassic Park 1 rivediamo i veloci raptor ovviamente sono gli stessi perché c'è blu rivediamo vagamente in sottofondo triceratopi proticeratopi pachicefalosauri anche se ci sono due specie il pachicefalosauro è grande l'altra specie che adesso non ricordo è molto piccola il pachicefalosauro ho letto da qualche parte che non diventa più grande di un tot resta più piccolo di un uomo non è assolutamente vero il pachicefalosauro è grosso poi pachicefalo è riferito al fatto che ha la testa grossa lo so però sono due specie diverse e infine volevo parlare con voi del giganotosauro il giganotosauro appunto è il grande predatore villain di questa pellicola che anche lui viene sfruttato pochissimo non si sente la paura del giganotosauro perché non viene presentato fino dall'inizio semplicemente a un certo punto appare e lotta con gli umani e poi col t-rex come sempre come da formula ma non dà questo senso di paura ma ci tengo al nome perché il giganotosauro è un predatore appunto più grande del t-rex e non è da confondere come ho letto in molti siti in molti blog che hanno fatto la lista di questo di dinosauri presenti in questo film non è assolutamente da confondere con il giganotosauro il giganotosauro è un sauropode è una lucertola col collo lungo per i profani come il brachiosauro come l'apatosauro come il diplodocus come il brontosauro che poi è il diplodocus o l'apatosauro comunque è che ok non sono la stessa cosa in aggiunta ci si ci si è messo se non sbaglio anche un cartone animato che si chiama gigantosauro a confondere le idee il giganotosauro è il predatore che si scontra con il t-rex alla fine di questo film dulcis in fundo vorrei parlare di un dinosauro che non è presente in jurassic world dominion è presente in jurassic park 3 ma ci tenevo un attimino a spiegare una cosa dato che appunto non è scientificamente accurata in jurassic park 3 lo spinosauro lo spinosauro che è appunto quel grande predatore che vuole rubare la corona di grande predatore al t-rex in jurassic park 3 si è scoperto recentemente e con recentemente intendo dopo jurassic park 3 che non è un predatore di terra è un predatore prettamente acquatico con acquatico non intendo come il mosasauro che sta proprio in acqua ma un predatore acquatico nel senso che caccia in acqua caccia nelle paludi poi si può stare anche sulla terraferma ma principalmente il suo corpo si è scoperto dopo è strutturato per nuotare per stare in acqua la coda non è come quella che si è vista nel film è una coda più utile è più una pinna dorsale più dorsale scusate più una pinna che lo aiuta a nuotare e la stessa spina dorsale è fatta probabilmente anche per quello per stare dritto mentre nuotava lo stesso muso molto più allungato rispetto a quello di un t-rex può essere che fosse appunto per pescare in acqua come fanno per esempio gli orsi con le mani lui lo faceva con il muso questo lo dico perché appunto nel terzo film in Jurassic Park è stato concepito come un dinosauro di terra invece no è un dinosauro il cui regno è da un'altra parte quindi non si sarebbe magari scontrato con un t-rex in ogni caso anche se si fossero visti faccia a faccia avevano territori diversi ecco per così dire quindi lo spinosauro che si è visto in Jurassic Park 3 mi dispiace dirvelo ma è stato smentito poi sicuramente nessuno di essi sarà scientificamente accurato sappiamo tutti che ci si attacca un po' al discorso del fatto che sono stati clonati col DNA di Rospi per cui se si se nascono delle nuove evidenze scientifiche si può usare questo come giustificazione narrativa si sa che avevano molte più piume di quelle che noi ci aspettiamo tant'è che quando io ho visto il trailer di Jurassic World Dominion e ho visto quel dinosauro con le piume speravo che fosse un Velociraptor nato allo stato naturale invece no era un'altra specie ancora ma comunque mi piace che abbiano introdotto dei dinosauri con delle piume lo avevamo già fatto un pochino in Jurassic Park 3 con un Velociraptor che aveva una leggera piuma sulla testa però ecco mi piace che ne tengano conto bene tutto quello che avevo da dire a quantomeno in un piccolo video su Jurassic World e sui dinosauri presenti io l'ho detto continuate a seguirmi che magari faremo delle live dove apriremo queste due scatoline e ci giocheremo un pochino e poi faremo appunto una live quiz con i dinosauri io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci nel prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti